Sì, è stato emanato un avviso a un pubblico per venire a conoscenza delle associazioni, delle oasi e delle fattorie didattiche. Che vogliono ospitare, adottare le papere e le oche che sono in eccedenza nel parco salvo d'acquisto. Ovviamente si parla fino di vita natural durante. Questo vuol dire che chi ha intenzione di adottare un'oca, una papera, non deve poi a sua volta dare l'indonazione a terzi. È fatto il rivedo di macellazione ma semplicemente l'adozione è per garantire il benessere dell'animale. Abbiamo avuto dell'ispezione da parte dell'Asla e le papere stanno in buone condizioni e non ci sono situazioni genucosanitarie precarie, così come dichiarato o denunciato da parte delle associazioni. Quindi ci tengo a precisare che l'adozione vale soltanto per gli esemplari che sono in eccedenza. Ovviamente la destinazione della villa sarà sempre quella di accogliere tale esemplari, ma saranno accolti in numero ridotto. Quindi solo gli esemplari in eccedenza andranno via ma resteranno per la gioia dei più piccoli comunque le oche e le anetre. Sicuramente andranno via soltanto nel momento in cui arriveranno delle domande da parte dei terzi, ma il comune comunque si riserva di verificare attraverso gli uffici da parte di coloro che faranno richiesta se ci sono tutti i requisiti. Quindi è un avviso, ma un avviso anche esplorativo, non è un avviso definitivo, perché se praticamente le domande che pervengono non ci sembrano in linea con quanto vuole, da quanto indicato dalle linee di indirizzo del comune, gli animali di esemplari resteranno nel parco. Quindi il comune verificherà sia se i terzi hanno le condizioni per consentire l'adozione, ma anche una volta che l'adozione viene effettuata, continuerà a vigilare? Certamente, infatti per questo si parla nel bando fino a via D'Analdo Ladurante, perché resteranno praticamente di proprietà delle persone che le adotteranno attraverso la registrazione presso l'asla, ma il comune si riserva di monitorare lo stato di salute e di mantenimento delle stesse. Che sia ben chiaro che non c'è la volontà di parte di amministrazione di eliminare completamente le anetre e le oche dal parco e resteranno quelle che sono consentite e che sono state praticamente monitorate dal comune stesso. Grazie a tutti!